Sì, lo faccio i giochi suoi, scusate! Ma stai praticamente chiusa che fai, come la vena che fa un gol in questa moto si mette! Impalla l'acceleratore così e poi il freno! E' un grande, è un grande! Stai già avvisato? Io sapevo che ci stavo là! E' un kamikaze, cazzo! Cazzo, però l'ho montato al contrario, non ci faccio vedere le cape! E quindi?